Ha paura della morte e di quello che verrà dopo? Seneca ha detto una cosa interessante, che noi siamo stati morti per millenni e continueremo a essere morti. Quindi è una situazione normale. La vita è un attimo in cui si è vinta la lotteria per una mezz'oretta. Quindi bisogna cercare di vivere al meglio, questo sì.